Abbiamo creato una squadra che lavorerà unita per il completamento della Fano Grosseto, così l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che nei giorni scorsi, accompagnato dal primo cittadino di Urbino Maurizio Gambini e rappresentanza di sindaci dell'entroterra, si è recato a Roma per seguire la seduta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. All'ordine del giorno c'era il progetto per il completamento della Fano Grosseto. Sono state presentate ad ANAS, ha spiegato Baldelli, tutte le osservazioni e le richieste di integrazione, affinché l'attuale percorso previsto a due corsie non raddoppiabili tenga invece in considerazione tutte le valutazioni coordinate dalla Regione Marche, così come espresse dal territorio. Il prossimo passaggio fondamentale sarà la conferenza dei servizi, in cui ANAS è stata chiamata dalla stessa Commissione a rielaborare il progetto, che da sempre chiediamo torni alla previsione originaria delle quattro corsie. C'è una posizione cristallizzatasi su un completamento della Fano Grosseto a due corsie, addirittura utilizzando anche il tracciato esistente, il che significa rotatori, semafori, incroci a raso. Questo non è un itinerario europeo. Finalmente, con la convocazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come Regione Marche, facendo un cambio di passo evidente a quello che era accaduto nel recente passato, abbiamo presentato formalmente una nuova visione di infrastrutture regionali. Un itinerario europeo come la E78 non può essere a due corsie, addirittura non raddoppiabili. Queste criticità, ha aggiunto Baldelli, hanno portato il Consiglio Superiore a deliberare non l'interruzione della procedura per ricominciare da capo e questo è un ottimo risultato, ha commentato l'assessore, bensì l'integrazione di quella procedura con l'accoglimento delle osservazioni non solo dei consiglieri dello stesso organismo, ma anche della Regione Marche, insieme alla provincia pesarese e ai comuni interessati con i quali abbiamo parlato ad una sola voce. Il risultato finale è stata la richiesta a Banas di procedere con il completamento della Fano Grosseto ma di rielaborare il progetto presentato secondo un'ipotesi che non può soddisfare questo territorio e le esigenze della Regione Marche, ma con un progetto che tenga in considerazione la possibilità di realizzare una strada a quattro corsie. Come? Progettandola a quattro corsie, poi a secondo delle necessità economiche anche da realizzare a stracci, ovviamente con il raddoppio della guinza. Ora, concluso Baldelli, dovremmo vigilare che Anas acquisisca tutte le osservazioni presentate affinché il voto della Regione possa essere favorevole e si possa finalmente vedere la messa in opera della incompiuta delle incompiute del centro Italia, strategica non solo per la provincia di Pesero Urbino ma per l'intera Regione. La Fano Grosseto porta questa Regione invece verso la Toscana e quindi unisce gli interessi della costa adriatica nord con quelli della Toscana ma unisce anche gli interessi del nostro porto anconetano che è uno dei principali porti per la sua conformazione del mare adriatico verso i porti della Toscana o anche della Liguria pensiamo a Piombino, pensiamo a Livorno o pensiamo alla Spezia.